Fulvio Abate e Teledurruti ogni giorno cercano di ucciderci con i loro luoghi comuni e noi reagiamo, reagiamo col pensiero. Poc'anzi guardavo a Siargento e dicevo cosa mi fa pensare questa artista? E la risposta l'ho trovata, è la littletona del cinema d'avanguardia. Come littletoni dai, però al femminile, littletona, Fulvio Abate, Teledurruti, resisteremo ai luoghi comuni.